Scriviti al nostro canale Nonostante le numerose concorrenti, le misure e gli interni della BMW Serie 3 Come abbiamo detto, le misure della nuova BMW Serie 3 2019 sono aumentate, e non di poco, ad oggi è lunga 4,71 metri, larga 1,83 e alta 1,44 metri. La sua crescita l'ha portata ad avere delle misure simili a quelle della Serie 5 e 39, prodotta dal 1995 fino al 2003. Ma tutti i centimetri aggiunti con la piattaforma Klar non l'hanno appesantita, infatti pesa 55 kg in meno. Per quanto riguarda il design, la Serie 3 resta fedele alla tradizione BMW, nonostante molti elementi estremamente aggressivi e soprattutto moderni. Il suo frontale è caratterizzato dai fari a LED esteticamente affilati, con un tocco di stile nel lato basso della palpebra, al centro. Infatti, è presente una specie di graffio che parte direttamente dal paraurti anteriore, studiato per regalare ancora ulteriore mascolinità al look della berlina. La mascherina fatta a doppio rene si estende anche nella parte sovrastante al cofano e da dimensioni importanti. Le fiancate invece sono caratterizzate dal gioco di vuoti e pieni per sottolineare la potenza della sua classica trazione posteriore. Punto e virgola inoltre, i passaruota abbondanti si completano al meglio con cerchi di dimensioni importanti. È soprattutto il posteriore a segnare un taglio col passato, anche grazie alla fenaleria a LED che si sviluppa in modo rettangolare. Donando così un aspetto serio, il portellone invece è nettamente distinto dal paraurti. Le dimensioni aumentate vanno tutte a beneficio dell'abitabilità interna, inedita per il suo segmento, nonostante il grande tunnel. Centrale, la vettura regala molto più agio anche a 5 passeggeri adulti, soprattutto a quelli che si accomodano sul divano posteriore frazionabile 40-20-40. Anche le misure del bagagliaio non sono male, nella versione berlina ci sono infatti 480 litri di capienza, ottimi per viaggiare comodi e organizzati. Gli interni della serie 3 sono moderni, il cruscotto è di tipo digitale e misura 12,3, mentre il monitor dedicato all'infotainment è posizionato al centro della plancia e misura 10,25. Questo ospita il sistema BMW Operating System 7,0. Sotto al monitor ci sono le bocchette d'aerazione, in generale comunque, il livello delle finiture è sempre in grado di soddisfare anche tutti gli affezionati BMW. Le motorizzazioni e i consumi della BMW Serie 3 Per la BMW Serie 3 sono disponibili il diesel 2,0 nelle versioni con 150 e 190 CV, mentre sul benzina monta il 3,0 con 6 cilindri in linea e 265 CV. L'ultima versione disponibile è l'hybrida plug-in, in grado di garantire 60 km di autonomia se sfruttata nella modalità elettrica. I consumi dichiarati per le versioni alimentate a gasolio sono di 4,7 litri 100 km, 4,2 per le versioni automatiche, mentre con 3,030 si percorrono circa 100 km con 5,8 litri di benzina. BMW Serie 3 Allestimenti e prezzi Con i suoi 5 allestimenti disponibili al listino, la BMW Serie 3 può soddisfare diverse esigenze. La versione base è la Business Advantage, sovrastata dalla versione Sport, dalla Luxury e dalla M Sport. La dotazione di serie prevede sempre fari a LED, sia anteriori che posteriori, Active Guard Plus, Cruise Control, freno a mano elettronico, sensore pioggia, controller e drive. Gli optional sono chicche come il volante riscaldabile, i sedili elettrici con le memorie, i gruppi ottici tipo Laser Light, i pacchetti. Odas Driving Assistant, impianto audio Harman Kardon e molto altro. Per avere tutto ciò, i prezzi della Serie 3 sono adeguati al blasone, ma anche alla tecnologia di bordo. Si parte dai 40.550 euro. Della versione base 2.0 diesel si passa ai 49.800 euro della versione 3.0 benzina. Il prezzo più alto si raggiunge con la 330 M Sport 3.0 con 258 CV che costa 58.850 euro. Scopri i modelli disponibili sul nostro sito e trova la tua BMW Serie 3 usata.